Ciao a tutti ragazzi da Supervo84 questo è un brevissimo tutorial che spiega come poter risolvere quel problema di movimento che avevo nell'ultimo tutorial vi faccio vedere se vi va bene io ho trovato questa soluzione qua, sennò potete provare e testare voi come fare andiamo su My Character beh, prima di tutto vediamo com'era ok, nell'altro modo sarebbe andare qui e sostituire in questa zona IS COMBAT MODE con IS IN AIM OFFSET ROTATION compiliamo, salviamo e in questo caso diventa così è Grazie. Vedete voi come volerlo tenere. Io lo tengo con quest'ultimo metodo qua perchè lo preferisco. Vabbè, al prossimo tutorial, ciao a tutti ragazzi da Supravo84.